Erano diventati spacciatori itineranti per i diversi domicili che avevano cambiato nel corso degli anni tra le province di Arezzo, Pisa e Livorno e con canali di approvvigionamento dalla campagna diventare punti di riferimento per chi voleva acquistare sostanze stupefacenti come eroina, cocaina o hashish. Nel loro girovagare si erano fermati da giugno 2016 a Montevarchi dove avevano trasformato l'area del parcheggio cimiteriale in una vera e propria piazza di spaccio. L'area era diventata così il punto di riferimento per l'acquisto di sostanze stupefacenti da parte di molti giovani del Val d'Arnese. I tre cittadini tunisini con precedenti specifici sono stati arrestati venerdì dai militari della stazione dei Carabinieri di Levane su ordine della magistratura aretina. Nel corso delle perquisizioni domiciliari era stato trovato un cellulare che ha permesso così di individuare numerosi acquirenti parte dei quali collaborando con i Carabinieri hanno confermato la vendita di sostanze stupefacenti in almeno 1700 occasioni ad almeno una cinquantina di assuntori identificati. L'arco di tempo va da maggio a novembre 2016 nei comuni di Arezzo, Levane, Montevarchi e Terra Nuova, Bracciolini. Già nel 2015 il terzetto aveva spacciato eroina ad Arezzo dove erano stati arrestati nella zona di Campo di Marte. Nel corso delle indagini inoltre sono stati sequestrati circa 3.200 euro, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio e anche cospicue dosi di droga. L'attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Arezzo che ha chiesto ottenuto la custodia cautelare in carcere per i tre tunisini.